ciao amici vi ricordate di me sono valentina di pochi ma cuochi pensavate che mi fossi dimenticata di voi dopo la prima puntata invece no questa sera ho fatto irruzione nello studio della tv per farvi vedere una ricetta veloce e facile che potete fare in 5 minuti vi darò gli ingredienti e la potremo fare insieme mentre ve la racconto per fare questa ricetta si tratta dell'humus di ceci sono sicura che lo conoscete tutti perché ormai è molto diffuso abbiamo bisogno di 250 grammi di ceci già lessati per comodità io a casa stasera l'ho preparata con i ceci quelli in scatola già fatti però se avete tempo ovviamente potete lasciarli in ammollo dalla sera prima e saranno molto più buoni due cucchiai di olio extravergine di oliva o due cucchiai di tahina di sesamo che è una pasta di sesamo che serve appunto a fare il nostro humus due pizzichi di sale uno spicchio d'aglio il succo di un limone intero e un po di paprika di prezzemolo che ci serviranno alla fine per guarnire è veramente facilissimo fare l'humus infatti basta mettere tutti questi ingredienti che vi ho appena elencato in un frullatore girate per due minuti finché diventa bello cremoso e abbastanza denso e il vostro humus è pronto impiattatelo ve lo faccio vedere eccolo qui mi raccomando io vi aspetto sempre e se non vi ricordate la prima puntata perché lo so che è passato un po di tempo però andate su facebook all'indirizzo facebook.com slash la televisione web ciao ragazzi io devo andare è scappo ma mi raccomando seguitemi fino alla prossima puntata vado prima che arrivi ginger con i suoi rocchettari ciao ciao